Ben trovati, questo venerdì mi piace, mi è doveroso oltretutto dedicarlo alla memoria di Umberto Petitto, il professore imprenditore, il galanduomo Umberto Petitto che è venuto a mancare all'inizio di questa settimana. Io non mi sono affatto sorpreso, devo dire la verità, ma credo che sia stato un sentimento comune a tutta la gente che ha partecipato appunto per tantissima gente che ha voluto partecipare con mossa ai funerali di Umberto Petitto. Non mi sono sorpreso perché Umberto, al di là di ogni altra considerazione, anche dei rapporti di amicizia se volete, ma Umberto in qualche modo meritava questo e tanto più. Lo meritava perché prima come professore, adesso ne parliamo un attimo, vorrei proprio dedicare questo spazio del venerdì a ricordare qualcosa di particolare dell'imprenditore Petitto. Non soltanto come professore, aveva già dimostrato come professore di lettere di essere un galanduomo, una persona di grande cultura, ma soprattutto di grande sensibilità umana, ma soprattutto, io dico, anche come imprenditore, ha dimostrato di essere qualche cosa che l'ilpinia sta in qualche modo, in qualche misura perdendo, cioè di essere un imprenditore fortemente animato nel pensiero e nelle azioni dall'etica imprenditoriale. Vedete, io sono convinto che la questione morale oggi va ben oltre la politica, la questione morale investe purtroppo tutte le categorie, investe gli imprenditori, investe i professionisti, investe i giornalisti, attenzione, investe un po' tutti, i sindagati, un po' tutto e noi stiamo smarrendo i riferimenti di questi valori. La questione morale, l'etica imprenditoriale, così come l'etica professionale, è un valore irrinunciabile. Certe cose, tante cose che accadono e non ci spieghiamo perché accadono, dipendono proprio da questo, ma torneremo su questo argomento. Non mi sono sorpreso di tantissima gente perché al di là delle moine, al di là delle cerimonie, e al di là anche di tanta ipocrisia diffusissima tra noi umani, le persone che hanno partecipato all'esegue di Umberto Petitto martedì scorso si vedeva, proprio si sentiva, si sentiva nell'aria che stavano lì per rendere omaggio ad una persona che meritava di essere omaggiata. Vedete, noi siamo abituati, un po' tutti, per una forma sbagliata di cultura tradizionale, di dire quando qualcuno viene a mancare era un bravo uomo. Insomma, a giudicare dai giudizi che diamo quando una persona è morta sembra che siamo vissuti e che stiamo vivendo in un paradiso terrestre, non è così. Si può comprendere la solidarietà, si può comprendere il lutto, tutto quello che si vuole, ma non è vero che tutti siamo buoni uomini, tutti siamo e lasciamo un ricordo dignitoso di come abbiamo speso la nostra vita. È chiaro che ognuno può spenderla come vuole, ma la vita e il giudizio sulla vita delle persone si dà soprattutto in relazione a ciò che le persone, ogni singola persona ha fatto nei confronti del prossimo. Bene, io credo, sono certo per la verità che Umberto Petitto appartenga a quella categoria, sia appartenuto che appartenga ancora nel ricordo, a quella categoria di persone che hanno speso la loro vita facendo del bene. Mi piace ricordare una delle tante cose, una delle tantissime cose belle che Umberto ha fatto, era il 2014, ha consegnato la data il 2014 e tramite naturalmente le sue risorse personali. Umberto fece una cosa molto molto bella, istituì questo fondo per sostenere tramite l'arte, aveva anche lui una passione artistica, per sostenere tramite l'arte l'integrazione dei bambini extracomunitari. Sembrano piccoli gesti, ma di fatto sono grandi gesti che comunicano qualcosa di buono, che comunicano anche il profilo umano, la consistenza direi umana di una persona. Umberto frequentò il liceo classico di Lendecane che all'epoca era, forse ancora tutt'oggi, l'ho perso un po' di vista, ma all'epoca era uno dei migliori licei della nostra provincia, insieme naturalmente a Colletta, insieme al liceo di Sant'Angelo dei Lombardi e dopo assecondò la sua passione, che era la passione letteraria e si laureò in lettere e filosofia. Vedete oggi ci meravigliamo, ci sorprendiamo per i sacrifici che qualche giovane è costretto a fare, se deve allontanarsi purtroppo di casa per la disoccupazione, ma parlo soprattutto dei professori, dei giovani professori che devono andarsi a fare un anno dove ci sono i posti disponibili, in Alt'Italia soprattutto. Bene, Umberto, parliamo del 1969, non dell'altro ieri, Umberto nel 1969 fu costretto per poter insegnare ad emigrare in Alt'Italia, andò a Bergamo, a Bergamo c'è stato 5 anni, poi dopo quei 5 anni dove certamente acquisì molta parte della sua anche cultura imprenditoriale, ascoltando, vedendo come ci si organizzava da quelle parti, tornò in Irpinia e in Irpinia continuò ad insegnare per altri 5 anni nelle scuole superiori e per i concorsi, per alcuni concorsi importanti, era bravo, era molto molto bravo. Ebbe, ma ce l'aveva credo già da un bel po' di tempo, la passione per l'imprenditoria, voleva fare l'imprenditore, si sentiva che voleva fare l'imprenditore e cominciò subito, nel 1981, se ricordo bene, cominciò con la prima industria, poi ne fondò un'altra, poi un'altra ancora nel tempo, è riuscito, lasciando oltretutto al figlio Angelo, alla figlia Katia, all'altra figlia, lasciando un patrimonio imprenditoriale che è soprattutto, è un grande patrimonio culturale, di cultura, di impresa e mi permetto di sottolineare ancora di etica dell'impresa, che è una cosa molto molto seria. Ecco, questo è stato in qualche modo, Umberto, sempre disponibile con tutti, un imprenditore di successo, un imprenditore che partendo praticamente da zero, con pochissimi soldi, è riuscito a conquistare i mercati internazionali del suo settore e a diversificare la sua impresa imprenditoriale, guardando soprattutto alla realtà, guardando al giorno per giorno le cose che cambiavano, che accadevano e che hanno dato poi una solidità alla sua impresa, impresa guidata oggi appunto dal figlio e dalle figlie. Bene, parlavo prima della importanza dell'etica Avellino ed è anche un fatto molto molto attuale. Avellino si è servita, Avellino piace chiamare illuminata, la borghesia illuminata della quale fanno parte gli imprenditori, fanno parte i professionisti, fanno parte anche tanti dipendenti del pubblico in bieco, attenzione non è vero che nel pubblico in bieco ci sono troppi lavativi o soltanto lavativi, non è così. Bene, questa borghesia illuminata nel tempo ad Avellino, in Irpinia, ha ispirato la politica, l'ha ispirata facendole capire quali erano gli indirizzi che bisognava seguire per stare in sintonia con la realtà e soprattutto per creare posti di lavoro stabili. Noi abbiamo tanti, io dico tanti, imprenditori bravi in questa provincia, bravi sul modello proprio di Umberto Petito così come abbiamo gli imprenditori di Rapina, insomma ci sono sempre stati, ce ne saranno sempre. Però io sottolineerei il carattere dell'etica imprenditoriale, di questa questione morale, perché vedete anche negli ultimi tempi, anche nella città di Avellino, in Irpinia, abbiamo dovuto assistere e dobbiamo ringraziare la magistratura avellinese per averci fatti un po' tutti svegliare dal sonno profondo in cui eravamo caduti, immaginando che questa fosse una provincia assolutamente sana, che fosse una provincia paradisiaca, che Avellino fosse una città da paradiso terrestre. Non è così, però questa supplenza della magistratura non può durare in eterno, la magistratura deve fare, la magistratura non deve suppliere le cose che la politica può fare. Siamo in campagna elettorale, meglio siamo alla vigilia delle elezioni per cui mi fermo qui al cimenti, ne potremmo raccontare davvero di belle. Il ricordo resta per Umberto Petitto, un bel ricordo fresco che non è soltanto amicizia, è ammirazione dal profondo del cuore e anche dal profondo dell'intelletto, cioè un'ammirazione ragionata, ragionata sulla base della sua vita, di come è vissuto, dell'esempio che ha saputo lasciare a questa terra. A venerdì prossimo. Grazie a tutti.